ciao paola questa è appunto la rubrica di cinema peloso e io volevo farti tre domande su film cretters pane peloso è molto pericoloso senti questo è un test di ripresa quindi che famo famosa rubrica che sei il nostro ospite super special fetti speciali e io ti aspetto è ci sentiamo dopo intanto ti mando questo filmato da cosa per ora un po spaventoso sempre molto simpatico stai attento a lei eh signora cannella che mi brucia il pelo ciao ciao gnamete